La modella Achille Campanile. Mi ero spesso domandato come avvenga che alcuni, i quali fino a una certa età non ci pensano nemmeno lontanamente, a un tratto quasi per un'improvvisa conversione si dedicano alla pittura. L'avevo saputo di molti, tipi che avevano doppiato il capo dei 45 e magari quello dei 50 anni e che per tutta la vita si erano occupati d'altro, a un tratto inesplicabilmente, avevano sentito la vocazione pittorica. Ebbi la spiegazione dell'enigma quando recatomi a far visita al mio vecchio amico Cesare, sua moglie, indicandomi la scala della soffitta alla porta chiusa di questa, mi disse. Non si può entrare. Ha la modella. La modella? Esclamai. Sì, sta dipingendo. Dipingendo? Passavo di sorpresa in sorpresa. Non sapevo affatto che Cesare si fosse dato alla pittura e lo disse a sua moglie. Da quando è qua? Come? Fece lei stupita a sua volta. Non lo sa. Ha avuto sempre una certa passione per l'arte, ma adesso si è messo a coltivarla con metodo. Ah sì? Ho piacere. La mattina viene la modella e lui dipinge per un paio d'ore. Non fiatai. Dovetti aspettare una buona mezz'ora durante la quale sogguardavo sgomento l'espressione della padrona di casa. Ma fortunatamente questa era tranquilla. Alla fine la porticina della soffitta si aprì e una ragazzetta venne fuori, dirisendosi in fretta verso l'uscita senza guardare nessuno. Allora fui ammesso nell'improvvisato studio dove in una tela su un cavalletto si vedeva abbozzato, anzi scarabocchiato, un nudo di donna. Sono studi, mi disse Cesare con modestia. Non bisognava disturbarlo durante il lavoro di pittura perché, mi spiegò, la modella costava non so quanto all'ora e lui non voleva sprecare i quattrini e anche perché la modella stessa non voleva essere vista da occhi profani nel costume di Eva. Ricordando certi segreti trascorsi piuttosto libertini in compagnia del mio amico gli dissi «E tua moglie, permette?» e abbozzai un sorrisetto ironico preparandomi ad accogliere confidenze piccanti. Cesare mi ghiacciò con un'occhiata. «Che c'entra?» gli disse Grave. «Questa è una cosa seria!» Capii che un abisso sarà ormai aperto fra noi e cominciai anch'io a vagheggiare l'idea di farmi pittore. Ormai non avevo più l'età di correre dietro alle gonnelle né la voglia di perdere tempo in lunghi corteggiamenti e soprattutto stavo per raggiungere quell'età in cui non sempre con una donna si può far altro che ritrarla su una tela. La pittura mi avrebbe appianato molte difficoltà e poi mi incuriosiva l'idea di un annunzio sul giornale. Cerco modella, presentarsi eccetera e mi attirava la comodità di far venire i soggetti in casa e scegliere a mio agio senza rischi di sorprese e senza destare sospetti nemmeno nella modella stessa, potendo chiuderla bocca a tutti con la magica parola «arte». Ma la difficoltà maggiore per risolvere le altre era convincere mia moglie. Chissà se avrebbe dimostrato tanta comprensione verso l'arte quanta ne dimostrava la moglie di Cesare. È una donna intelligente, mi aveva detto lui, della sua, quando se n'era parlato. Viceversa la mia, la prima volta che accennai al progetto, rivelò un'assoluta rozzezza nei riguardi delle arti figurative. «Porco!» gridò, «Te la do io, la modella!» Niente da fare. Tuttavia, batti batti, finì per convincere quella santa donna. Il primo giorno che le modelle vennero a presentarsi, io ero visto di un cavalletto, di una tela e di tutto l'occorrente per dipingere. Ma gli ostacoli cominciavano allora. Il difficile era proprio dipingere. Mi incoraggiava un po' il pensiero dell'astrattismo, gran risorsa per un principiante. Fatta la scelta, dissi alla ragazza di spogliarsi e cominciai a tracciar segni col carboncino. E adesso, pensavo, finalmente un giorno tentai con sorrisetti incerti di far capire alla modella che il quadro mi interessava fino a un certo punto. Lo capì. Capì oltre il mio pensiero. Forse anche perché in quel momento mia moglie saliva le scale, la modella si vestì in fretta e uscì sostenuta. Mia moglie non domandò spiegazioni. Credeva di aver capito anche troppo, vedandomi fra i denti del maiale. Da quel giorno dette lo stracismo alle modelle e parlò un tono minaccioso di natura e morte. Finché giunse a impormi una caffettiera. Ne aveva compiata apposta, nuova di zecca. La portò in soffitta, la sbatté sulla pedana destinata alla modella. «Dipingi questa!» disse. Capì d'un tratto tutto il dramma di Morandi. Per non complicare le cose accettai e per un po' di tempo passai qualche ora nella soffitta di casa, adattata a studio, in compagnia della napoletana. Tracciavo svogliatamente segnacci sulla tela. Finché un giorno, non so se di fronte ai modesti risultati o se perché si fosse rotta la macchinetta di casa, mia moglie salì a prendere quella che mi serviva come modella e decise perentoriamente d'usarla per fare il caffè. Finsi di protestare molto debolmente in verità, sempre per non destare sospetti. Ma dentro di me ero contentissimo. Era per me una liberazione. Così finì la mia carriera pittorica e la fine fu surgellata da un'eccellente tazza di caffè. Mentre lo sorseggiavo, mi pareva di aver tradito l'arte e avevo un leggerissimo rimorso. Ma presto non ci pensai più.